Massimo, sai che è una novità? Scusate, posso, a proposito, sono ancora Beppe Severnini, una domanda al Presidente su questo punto. Io ho ascoltato quella sua frase quando parlava dell'ex ministro Brunetta, per cui è stato molto attaccato. Lei può confermare che questo accenno sulla statura è stato un incigile? Era involontario perché i suoi accusatori davano per certo che lei volesse essere sarcastico? Ho detto, quando sento il professor Monti voglio chiedere, com'è sta storia? Il professor Brunetta ha spesso, diciamo, classificato gli economisti dicendo Grilli vale più di Monti o meno di Monti o di Tremonti, che poi non è propriamente un economista, ma io, Brunetta, valgo di più di questo e quest'altro. Diciamo, dispute divertenti alle quali non partecipo tra economisti accademici e quindi io ho fatto quel riferimento alla statura accademica, solo chiedo scusa se posso aver dato luogo a interpretazioni diverse, ma mi sembra veramente grottesco pensare che io volessi riferirmi ad altro che alla statura accademica, che è una categoria che il professor Brunetta, che è un uomo molto simpatico e vivace, introduce spesso nel dibattito politico.